Ormai giugno è un po' bruciato, però luglio-agosto speriamo di recuperare qualcosa, se non succede niente di grave. Ad aggravare l'emergenza economica esplosa con il coronavirus è la paura di spostarsi in altre regioni italiane. Perfanno al momento le richieste sono poche, ma gli albergatori che hanno deciso di riaprire sono fiduciosi. Abbiamo provato a riaprire adesso dal 13 giugno e stiamo viaggiando un pochino a vita, nel senso che anche all'ultimo minuto, piano piano, però se la paura incomincia a diminuire la gente sta incominciando un po' a rispondere. Però certamente non è facile, tanto noi qui a Jotel lavorano quasi tutti con la crentina del nord, quindi la situazione è stata un po' più grave che da noi e hanno un po' di paura, ci fanno un sacco di domande per capire come funziona la spiaggia, però piano piano sta muovendosi con calma. Il turismo a Fano è più che altro familiare e le poche prenotazioni sono last minute. E ancora deve iniziare la stagione, i turisti ancora dovranno arrivare sicuramente, qualche pronunciazione c'è, ci sono, però devono essere confermate. C'è poca gente anche al mare? Al mare sì, sicuramente se vogliamo qualche ragazzo di qualche scuola, di qualche comunità, sì, c'è poca roba. Eh sì, è un pochino preoccupante in questa mente, c'è qualche albergo che ancora non ha manco aperto, insomma, se li guardi qui in fondo è un albergo abbastanza grande, abbastanza asserzato, ma purtroppo la situazione ancora, diciamo, si deve un po' muovere. Molte persone hanno finito le ferie, ci ha spiegato il presidente di alberghi consorziati e c'è anche chi tuttora ha problemi con la cassa integrazione. Altri invece ci chiamano per informarsi sulla situazione sanitaria e sulle norme anticontagio. Ci siamo sentiti già anche con altre associazioni e ci hanno detto che siamo tutti veramente messi non molto bene, sperando su luglio-agosto. Speriamo naturalmente anche il tempo, perché il 99% quello che conta è anche il tempo, il bel tempo. La gente ha voglia di uscire, ha voglia di fare, però problema anche soldi, lavoro, le problematiche ci sono, ci sono tante. I turisti fanno qualche richiesta in particolare? Sì, alcune strane come quella dell'ospedale quanto dista dalla città, ma noi operatori abbiamo messo non solo il disciplinare, anche qualcosa di più. Abbiamo chi ha comprato macchine all'ozono, macchine particolari per la sanificazione. Poi non solo, quando arriva la telefonata per la pronotazione noi cerchiamo sempre di dire quello che è in più per assicurare il turista. Quello è molto importante, la sicurezza. Le sicurezza non vogliono il discorso massivo, il turismo da noi è molto sul trend familiare e con questo sistema la gente ha anche quella sicurezza di spostarsi tranquillamente.